Sabato 4 dicembre siamo andati in visita ispettiva all'ospedale San Massimo di Penne per denunciare la grave carenza di medici nel reparto di medicina con turni irregolari, illegittimi, dovuti nella maggior parte alla grande disponibilità dei medici di quel reparto a far andare avanti la sanità dell'area vestina almeno per quanto riguarda la parte territoriale del San Massimo. Sembra che ogni volta che noi facciamo una visita ispettiva portiamo a dei risultati perché è del 7 dicembre questa delibera dell'ASL in cui vengono assunti altri due medici due medici che serviranno anche per il reparto di medicina si legge nella delibera che è possibile per soddisfare condincenti necessità ora ci chiediamo perché fino ad oggi non è stato fatto soprattutto dopo che quel concorso che era stato fatto proprio per la medicina dell'ospedale San Massimo non aveva portato a dei risultati siamo comunque felici ma non pienamente soddisfatti infatti si legge sempre nella delibera che comporta una spesa di 68 mila euro fino ad aprile 2022 fino al 30 aprile 2022 che questi medici saranno destinati o al covid hospital o al reparto di medicina del San Massimo di Penne e noi vigileremo così come stiamo già facendo che questi medici vengono veramente assegnati all'ospedale di medicina di Penne al San Massimo di Penne tant'è vero che proprio nei giorni scorsi abbiamo effettuato una richiesta di accesso agli atti per conoscere da gennaio 2021 ad oggi quanti turni interdivisionali sono stati svolti da medici quanti turni notturni e festivi chi sono i medici che svolgono questi turni per verificare se vengono rispettate le norme nazionali quelle del contratto collettivo e altre ancora anche di disposizioni europee terremo quindi alta l'attenzione sul San Massimo di Penne perché questo non si verifichi più sia per i medici sia per i pazienti grazie a tutti